Come poter far diventare il nostro hobby che abbiamo per i droni un vero e proprio lavoro aprendo anche una partita IVA Andiamola a vedere insieme Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere come poter diventare un professionista quindi poter anche lavorare con i droni aprendo la partita IVA, giusto ma prima di iniziare se ancora non l'hai fatto vorrei chiederti di iscriverti al canale attivando la campanella e se ti fa seguirmi su Instagram dove posto i miei più bei lavori Allora ragazzi questa intanto è una domanda molto ricorrente che mi fate come si può lavorare con i droni, cosa ho bisogno e che tipo di partita IVA devo aprire Allora intanto per primissima cosa se mi seguite da tempo sapete benissimo che bisogna essere in regola per poter volare con il nostro drone io ho fatto un video e se volete approfondirlo una volta finito il video lo lascio qui nelle schede ma riepilogo comunque velocemente cos'è che ci serve per volare in regola prima cosa dovete essere registrati su di flight e avere un abbonamento seconda cosa bisogna avere l'assicurazione per il vostro drone terza cosa qualora voi abbiate un drone al di sopra uguale ai 250 grammi avere il patentino quindi queste sono le cose in grandi linee che ci servono per poter intanto volare in regola ma ovviamente dopo che voliamo per diverso tempo anche per hobby facendo video a destra a sinistra può essere che ci capiti la possibilità di poter guadagnare qualcosa ecco da questo nostro hobby anche perché attualmente anche se si sta diciamo espandendo è sempre qualcosa di nicchia qualcosa che è visto come un plus e quindi ci viene proposto un lavoro e a tal proposito mi avete anche chiesto come devo comportarmi come devo fare per poter essere in regola ovviamente ragazzi bisogna avere una partita iva e comunque ragazzi trovare la partita iva giusta informarsi su internet come fare come non fare soprattutto per questo settore che è stranuovo è veramente molto difficile io personalmente ho la partita iva da diverso tempo però da un paio di anni mi sono affidato a Fiscozen cos'è Fiscozen? Sono dei consulenti che vi permettono di poter aprire la partita iva oltre ovviamente al portale di gestione fatture eccetera eccetera che adesso andremo a vedere e quindi di stare tranquilli perché in pratica fanno tutto loro e la cosa buona di Fiscozen secondo me il vantaggio maggiore è che voi avrete meno sbatti possibili cioè veramente non fate quasi nulla dovrete soltanto ovviamente mettere la vostra fattura sul portale in modo molto semplice e metterla ragazzi e il gioco è fatto poi vi calcolerà lui in automatico tutti gli adempimenti tutte le cose da pagare e loro vi faranno anche il F24 e vi diranno praticamente cosa pagare cioè non c'è nulla da fare voi andate lì mettete le vostre fatture quello che c'è da pagare di tasse lo pagate e il gioco è fatto non dovete avere grossi grattacapi è in primissima cosa la cosa che ci preme ma come la apro la partita iva semplicissimo ragazzi tramite il mio link che trovate comunque giù in descrizione avrete una consulenza gratuita praticamente parlerete con un consulente vi mostrerà ecco vi indicherà qual è la partita iva il codice giusto ma quindi poi faranno tutto loro vi faranno un prospetto vi spiegheranno anche come funziona la tastazione anche se vi ripeto faranno sempre tutto loro e in fin dei conti voi dovete soltanto aprire la partita iva che sarà aperta in 24 ore siete già operativi ricordo anche che tramite il mio link avrete ben 50 euro di sconto per il primo anno quando cambiai partita iva lo feci anche per youtube perché anche lì è un campo non nuovissimo ok ma comunque che va inquadrato in qualche modo loro ci hanno messo un attimo a inquadrarlo mi hanno dato tutte le informazioni utili per poter essere in regola e ragazzi sono stati formidabili anche perché poi avete dentro alla vostra dashboard al vostro sito alla vostra pagina iniziale di Fiscozen una chat e la chat ragazzi rispondono subito se avete qualsiasi dubbio qualsiasi problema perplessità scrivetela rispondono immediatamente e potrete benissimo anche prenotare una chiamata per potervi sentire telefonicamente e avrete addirittura un consulente personale quindi vi risolvono qualsiasi tipo di problema io mi sono trovato stra bene non voglio entrare in merito al tipo di partita iva però dato che so che magari è una cosa nuova che magari vi faccio un esempio guadagnerete inizialmente non tantissimo voi starete chiedendo ma quante tasse devo andare a pagare poi non so se riuscirò a coprire no ragazzi perché quasi sicuramente se la vostra prima partita iva ci sono tante piccole cosette andrete a fare il forfettario ora non vado nel dettaglio però in parole povere è se voi fatturate pagate le tasse se non fatturate non pagate va in percentuale praticamente quindi sicuramente vi faranno quel tipo di partita iva là per questo tipo di attività e starete pure tranquilli con le tasse da pagare perché se fatturo 10 pago 2 se fatturo 20 pago 4 ecco questo è solo per fare un esempio io sono già da due anni con loro ho già pagato le mie tasse è stato ultra semplice anche perché vedrete man mano che inserirete le fatture quante tasse andrete a pagare ok quindi già siete pronti non avrete tutte quelle sorprese magari oh mio dio sono arrivato vi devo pagare le tasse e non c'ho i soldi ecco avrete già tutto pronto perché il sistema calcola tutto inoltre vi prepareranno ripeto tutti i f24 necessari da pagare tranquillamente voi non dovrete far praticamente ed è questo secondo me il punto di forza la semplicità ok io mi faccio il mio lavoro e metto la mia fattura e il resto del lavoro lo fanno loro ecco possibilmente come la penso io ognuno si deve fare il suo poi ragazzi dando uno sguardo veloce alla piattaforma avrete il grafico che vi indica quanto state guadagnando il vostro limite di guadagno che avete in un anno la possibilità di emettere delle fatture veramente semplici di inserire i clienti è ultra semplice non c'è veramente tanto da dire perché è tutto talmente semplice che è fatto per semplificarvi la vita devo dire anche una cosa avendo una partita iva vi mettete su un altro livello qua siete un dronista normale con la partita iva siete un dronista professionista ok e per il cliente ve lo assicuro questa è una cosa fondamentale infine ragazzi sapete benissimo e se non provo una cosa non posso mai consigliarvela penso ormai mi conosciate abbastanza bene io ho già da due anni che ho fisco Zen se no non ve l'avrei neanche accennata devo dire che si sono comportati stra bene con me non ho mai avuto un problema e il punto di forza ripeto loro è la semplicità nel senso che voi non fate nulla voi mettete le vostre fatture e pagate le tasse quando bisogna ovviamente pagarle loro si occupano di tutto sia degli F24 e anche della vostra dichiarazione dei redditi ovviamente io vi lascio i link giù in descrizione 50 euro di sconto quindi per il primo anno e in più la consulenza gratuita che è fondamentale la consulenza gratuita ragazzi non obbliga a nulla ok voi fate la consulenza gratuita poi decidete in un secondo momento io spero che il video vi sia stato soprattutto utile e abbia fatto almeno un po' di chiarezza in questo marasma perché è un settore anche un po' nuovo e quindi se vi va lasciate un like un commento qua sotto chiedetemi qualsiasi cosa cercherò di rispondere a tutti e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video ciao iscriviti al canale iscriviti al canale